La donna giustamente in casa dopo un po' pretende abitavamo a Sesso San Giovanni prima in affitto e visto che il lavoro andava bene ha cominciato io voglio andare ad abitare in centro, Milano in centro prendila il caso in centro dopo sei mesi mi chiamava tutti i giorni io sono stufa, tutte le volte che lavo il balcone c'è quella lì che mi guarda ma che cazzo vuoi, la madonnina, non è che posso tirarla via